Se ne è parlato molto, veramente, con notizie in prima pagina, con argomenti dei media, con i canali di YouTube, un'infinità, una proliferazione di programmi, di chiacchiere, di battiti e non so che altro ancora. E quante volte potenzialmente siete stati in grado in realtà di riesaminare il soggetto e noi lo andiamo a fare nuovamente perché c'è un proposito e c'è una ragione per tutta l'intera discussione. C'è un obiettivo, c'è un proposito e c'è anche una fine del gioco per tutto questo. Ora, quello che può sorprendere per molti di voi è che non riguarda molto la rivelazione. Voglio mostrarvi, voglio farvi vedere come ce lo stanno raccontando da sempre. Noi semplicemente non abbiamo ascoltato, non ci importava niente o semplicemente non lo abbiamo compreso. È stato rivelato molto bene e questo è quello che continuiamo a leggere di questi altri è che siamo noi, sia il passato che il futuro. Una cosa che credo che stiamo per vedere e che penso sia importante è che vediate questo video fino in fondo perché vedrete quello che andrò ad avvalorare con questa mia esplorazione. L'umanità deve chiedere il permesso per lasciare la terra. Ora, noi facciamo questo in una forma di comunicazione che è più vecchia del linguaggio, quello scritto nell'alfabeto. E questo è attraverso il simbolismo. Potrete in realtà chiamarla simbologia. Quindi facciamo questo e portiamo il nostro rispetto nelle seguenti maniere. Possiamo usare lo chevron o simbolo avi, il dragone, gli dèi e i numeri. Tutti questi quattro permeano qualsiasi toppa di logo e sigma che state per vedere. Distintivi. E credo che alla fine di questo programma arriverete alla stessa mia conclusione, quella che ho fatto io. Ma andiamo avanti. Osservate bene. Osservate attentamente. Guardate questo. Questi non sono stati fatti a vanvera. Sono stati ben progettati. E con molta franchezza cerco di capire dove vogliono arrivare. Voglio dire, c'è una speciale, non lo so, una specialità universitaria, una scuola, un'agenzia, che non ha altro se non degli empatici maghi, dei chiaroveggenti, degli indovini. È diventato molto chiaro che sta succedendo qualcosa. Perché quello che stiamo vedendo proprio adesso davanti a noi è ripetuto virtualmente su ogni emblema che stiamo per vedere. Andremo a vedere lo scevron o simbolo avi, andremo a vedere il dragone, andremo a vedere la numerologia e andremo a vedere gli dèi. È molto chiaro, è molto evidente che c'è qualcosa che riguarda il dragone, il drago. Perché è dovunque. Il cavaliere nero, la fenice. Questi sono tutti simboli che sono virtualmente pieni in tutto quello che ha a che fare con lo spazio. Ora, questo manifesta che tutte le nostre basi sono al nostro servizio. Pensate a questo, gente. Ancora una volta, osservate il dragone. Il dragone è il mondo. Guardate le stelle. Ce ne sono cinque, separate da una. Andate a vedere la vostra costellazione da fuori. Ce lo hanno detto. Con questa. Con quella che è proprio qui. Il gatto è scappato dal sacco. Che cosa stiamo vedendo ancora? Lo scevron. Il mondo. In questo caso, possiamo vedere, sembra sia nell'occhio di bue, la Terra. Come vedete questo? Presumo che ovviamente sarà soggettivo secondo la vostra percezione di come vedete la realtà. Perché ho trovato questo molto interessante. In molti casi abbiamo parlato dei motori dei razzi. Giusto? Questo è l'Atlas 5. Ma non si può sfuggire al simbolismo. Osservate questo. E questo è ancora più strano. Veramente. Quando ho visto questo, sono andato a vedere di tradurlo perché non sapevo cosa voleva dire. quello che significa è che dice noi non siamo d'accordo. Divisi. Morti. L'occhio divino che vede tutto. Il sole. Le stelle. La terra. E che diciamo di questo? Voglio dire, se non pensate che che là fuori esista un forte occultismo, un paganesimo coinvolto in questo, intendo dire che dovreste essere virtualmente nella condizione di fare una decisione risolutiva di non vederlo. Questo è veramente interessante. Quindi sembra che abbiamo la rappresentazione di una fenice. credo potreste dire un angelo, una freccia. Voglio dire il tridente in una mano ed una chiave nell'altra che vogliamo scommettere. Quello che significa è la prima cosa pesante al tramonto e questo in realtà è il primo razzo pesante che è stato lanciato dalla costa ovest. Ma osservate ancora alle parole lassù in alto sono dovunque. Questo è uno di quelli che si sono visti ma spesso mai compreso completamente. Le persone non parlano latino. Lasciateli odiare fin tanto hanno paura. Io non lo so. Quanti di voi ascoltando la mia voce diranno il mondo è nella condizione di odio? bene sì può essere e la paura sembra che aumentino tutte e due sarà una coincidenza o un progetto. Dio giudicherà i nostri nemici preparerà un incontro. Nuovamente lo Chevro il Delta le stelle sono sistemate strategicamente e questo è la vittoria attraverso l'intelligenza. Fate attenzione allo scudo. Sì c'è raffigurata la medusa e questo è veramente elettrizzante gente. Il cavaliere nero con la mezzaluna ancora con la mezzaluna della Fenice. Se torniamo indietro voglio dire possiamo tornare indietro fino a quando è iniziato il programma spaziale ma guardate questo mi piace questo questo è lo SpaceX giusto li trovo sempre interessanti perché qui ci sono dei jet che fanno delle scie chimiche io non lo so e osservate questo ne ho trovato altri veramente molto interessanti di questi fregi e di questi loghi della Terra come hanno raffigurato la Terra a me sembra che si tratti di una specie di sintetico neuropatico ma è solo una mia interpretazione ora osservate questo dove si vede scritta della simbologia ovunque qui ovviamente c'è il proposito delle cinque stelle poi si riesce a leggere delta in basso giusto cinque il tre ed il sette sopra e quello che mi sembra è sia l'apertura di un portale da una piramide comunque sapete che in realtà c'è anche il servizio di rifornitura commerciale sì alcune delle simbologie sono veramente semplici voglio dire questo è del motore del razzo polaris ma non potete non farci caso e non vedere questo osservate qui c'è il carro minore il toro sì e che ne dite di questo il ritorno dalla missione con un campione di asteroide quindi c'è un dinosauro che agguanta un asteroide e ve lo sto dicendo e che ne dite di questo il motore di un razzo che hanno soprannominato 66 prendilo a calci molti di voi che probabilmente non sono nati baby boomer forse non ricordano questo ma avevano fatto una canzone anche su questo recentemente ho studiato un intero programma sul triangolum la costellazione del nord e qui ci sono i razzi si tratta del nome o della missione quale dei due penso si tratti di una missione dove abbiamo inviato una sonda verso la costellazione triangolum ma questo sarà per un'altra storia ecco questo mi piace se siamo in missione verso Dio Elwet l'esame finale il Titan per il motore del razzo e che diciamo di questo il dragone noi avremo il sopravvento osservate questo è un griffone guardatelo ma vedete le costellazioni sì sì interessante giusto quindi fondamentalmente c'è sempre questo occhio divino che vede tutto e poi abbiamo la piramide certo apparentemente hanno anche il senso dell'umorismo questa è la divisione che in realtà confeziona le tute spaziali il gruppo del veicolo di pressurizzazione sì e questo è semplicemente incredibile voglio dire se non ha la massoneria gli illuminati intendo dire l'occultismo sì sì e questo il Graal recupero gravitazionale laboratorio interno ora quello che ho trovato abbastanza interessante riguardo a questo osservate qual è l'oggetto più grande al centro sì la luna e poi c'è questo non so esattamente dire se la stazione spaziale non lo so mi sembra siano due satelliti che ovviamente stanno comunicando fra loro giusto e poi lassù c'è la terra questo tradotto significa nella parte suprema superiore ed ancora l'occhio divino e se andiamo a vederli tutti osservate questo intendo dire se questi psicologicamente vi colpiscono se questo linguaggio inizia a dirvi quello che sta succedendo qui ho trovato questo veramente inquietante c'è Horus a sinistra giusto ma osservate chi tiene la terra che cosa è dovrete interpretarlo nuovamente può essere tutto quello che volete ma quando ho iniziato a vedere i simbolismi come questo mi sono detto che cercano di dirci qualcosa il dragone e il cavaliere bianco il delta o che non so di chi siamo ma chiaramente qui qui abbiamo delle impressioni che la terra non è come possiamo dire un essere senziente libero osservate questo e ancora una volta osservate come rappresentano la terra non vi sembra un cervello e poi c'è quello che sembra essere un dio norvegese sì questo l'ho trovato particolarmente bizzarro ovviamente è della missione per Saturno giusto la risposta definitiva ma quello che ho trovato interessante su questo non è solo il 4 e il 2 ma guardate osservate Saturno perché c'è quella mano è solo dovete concentrarvi su questi perché inizierete a vedere che c'è qualcos'altro che sta andando avanti che sta succedendo qui questo è il sistema di raggi infrarossi spaziali giusto e osservate questo yep potete vedere anche questo molti di questi se in realtà iniziate a guardarci dentro bene per coloro che sono dentro alla numerologia voglio dire avrete scoperto da molto tempo tutto ciò qui nuovamente ci sono 6 stelle controllate l'attacco dell'astronave una mistura penso simile a guerre stellari questo vi dà un indefinito avvenimento giusto che cosa lanciano con questo qui e che ne dite di questo migliorare le capacità di comunicazione per i combattenti di guerra qui c'è un razzo ed un delta 4 su questo giusto migliorare le capacità di comunicazione per i combattenti di guerra bene pensate che cosa stiamo vedendo tutte queste cose si vedono in chiaro rosi la rivettatrice lo fa per lo spazio e qui in realtà abbiamo i servizi di rifornimento anche questo l'ho trovato molto interessante iridium in seguito e c'è ancora la simbologia c'è il dragone gente se questo non vi dà una impressione psichica a me la dà dragoni ovunque ma il drago gioca il ruolo predominante in tutto lo spazio tutto quello che ha a che fare con lo spazio è col drago in dio noi ci affidiamo tutti gli altri li monitoriamo questa è la signora drago e che diciamo di questo il laboratorio di ricerca di xenomorfologia come lo sposo e nuovamente simbolismi ora non so cosa sia veramente questo ho cercato di trovarne degli altri ma è difficile è di questo che mi dite posso dirtelo ma poi devo ucciderti tradotto questo lo squadrone segreto della notte profonda non ha e non fa alcuna domanda e potete vedere che è molto interessante come hanno sviluppato questo fregio osservate dove sono le bobine e poi guardate dove sono sistemate non chiedete e che diciamo di questo e c'è anche il sesso come potete vedere il numero 5 ha il 5 e il 7 e osservate questo non ditemi che la magia non ha dominato il mondo semplicemente osservate questo e questo mi ha veramente preso perché è la rappresentazione degli Stati Uniti come un dragone il dragone comanda il mondo come si vede dalla sua presa e osservate il gioiello o qualsiasi cosa sia nella sua coda nella parte sotto è verde quello che voglio dire è che sta mostrando gli Stati Uniti in modo marcato wow è questo voglio dire è strabiliante pauroso questo lo devo dire sì amate la morte salve morte come va la mettiamo là il bordo tagliente se osservate sulla sinistra posso giurare che per me è un atomo col delta nel mezzo e dall'altra parte si vede il drago con con la spada in mezzo a loro e questo qui la protezione delle operazioni dei satelliti ora decifrate questo vale la pena aspettare non lo so se quella è la stella polare quella lassù e sotto di essa ci sono nuovamente 13 stelle non lo so alcuni di essi sembra sia veramente interessante cercare di decifrarli e questo qui è uno molto interessante valutare il futuro ancora e poi fate attenzione alla mitologia questo qui ha della ha della stregoneria pagana non lo so quello che voglio dire è che potete andare a vedere tutto quello che potete e ovviamente hanno un grande senso dello humor i gladiatori del pianeta rosso eccone un altro io credo che vi piaceranno alcuni di questi è divertente questo o no non sono commoventi noi stiamo osservandoti ok Zuma il motore Zuma giusto abbiamo sentito parlare del progetto Zuma del motore Falcon 9 giusto bene abbiamo scoperto che il motore Falcon 9 sotto tutti i nomi è conosciuto come il dragone e poi c'è il quadrifoglio nella parte sotto giusto ma dai questa non può essere una coincidenza e potete vedere che il razzo là a sinistra che cosa si vede davanti cinque brillanti stelle e guardate questo nuovamente ancora una volta il delta o chevron questo è veramente particolare una piovra che presumibilmente ha catturato una persona umana ora perché questa è una strana toppa questa qui è ancora più inquietante non vi sembra che siamo tornati indietro agli egiziani il pantheon degli dei c'è un cavallo chi è in grado di decifrare il simbolo che si trova sulla destra in alto a destra controllate questo e che ne è di questo siamo tutti pazzi e voi lo sapete Alice nel paese delle meraviglie è ovunque e il gufo sta sempre a guardare questo è lo squadrone della divisione di supporto intelligence 6 9 3 ed ancora lo space la missione Galileo giustizia dall'alto ed ancora questo mi ha infastidito perché sapete si tratta di Wendy ma il rettile ha sostituito adesso l'essere umano giusto che lotta con il drago e il drago è ovunque gli occhi questo qui mi ha sempre disturbato solo e senza paura datemi la vostra impressione su questo se torniamo indietro all'Apollo vedrete i simbolismi sono ovunque qualche volta sono veramente banali altre volte veramente oscuri la morte indossa le pantofole del coniglio questo è l'equipaggio di combattimento dei missili nucleari quindi che cosa c'è raffigurato col tizio là in basso forse forse si tratta di qualcosa di fastidioso magari i piedi sono freddi qui penso che la CIA non abbia timore di portare dei pazzi caricatori hanno qualche senso umoristico e che ne è di questo il dragone dovunque silenzio a vita dietro la porta verde osservate osservate ancora una volta dove si trovano in piena vista anche questo l'ho trovato particolarmente interessante voglio dire non sono proprio sicuro che cosa farne di questo ancora una volta il cavaliere nero che lotta col dragone quindi cercate di ricordare con chi abbiamo a che fare con la struttura US Force col dispositivo di vetro ora non so a che possibile futuro stanno guardando ma mmm la nemesi il motore razzo e di questo possediamo la notte quello che ho trovato veramente interessante di questo è che il gufo tiene il lampo nei suoi artigli e perdonatemi ma osservate la terra immediatamente vicino c'è la rete è è veramente difficile vedere che cosa sta succedendo ma mi sembra molto simile ad un serpente difficile dirlo eh ma che diciamo di questo nessuna nazione sovrana è sopra il cacciatore di sensore e questo noi possediamo la notte ufficio di perlustrazione nazionale e nuovamente il serpente Pegaso il motore Atras 5 e quest'altro nulla si trova oltre la nostra portata la piobra una creatura molto interessante per essere usata nei fregi non pensate che i rettiliani siano qui bene questo è l'Oraion il test di volo dell'esplorazione osservate la navicella fermiamoci un attimo su questo c'è lo Chevron o Delta giusto ci sono i nostri numeri giusto osservate la navicella dove abbiamo già visto questo prima voglio solamente farvi vedere quanto sono andati in profondità nuovamente il Falcon 9 il Drago il Delta o Chevron il Drago anche le altre nazioni e questo che cosa significa il diavolo che conoscete come in una frase meglio il diavolo che conoscete che il diavolo che non conoscete devo dirvelo gente si trova tutto quanto là comunque queste sono le operazioni psicologiche per l'esercito degli USA e nelle loro insegne guardate questo sì i russi e gli Stati Uniti osservate questo il Drago ancora la costellazione Triangulum e ovviamente questo è sapete dal sapore di pollo al sapore di pollo quindi spero possiate vedere quello che ho voluto presentarvi qui che hanno fatto delle rivelazioni e che non abbiamo compreso il linguaggio o come leggerlo ma penso che adesso siamo in grado di farlo lasciatemi sapere che ne pensate voglio dire pensate che si sono dischiosi grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.